E' stato un incontro molto positivo, molto concreto, che sta producendo risultati molto importanti. Io credo che quello che è avvenuto in questi giorni ad esempio in materia ambientale di rifiuti è una rivoluzione, che noi passiamo da 20 anni in cui prima Leggiunto e Bassolino, poi Caldoro, oltre a massacrare il territorio dall'emergenza di rifiuti, insegnavano che il mantra del cambiamento erano discariche e incenerimenti. Oggi grazie alla battaglia di comitati e cittadini, la battaglia del Comune di Napoli, anche il Presidente De Luca conviene, di questo ne siamo particolarmente grati, che il futuro non è discariche e inceneritori, ma è impiantistiche alternative, compostaggio e rafforzamento della raccolta differenziale. Questi non sono solo pronunciati, generici, ma si stanno producendo in atti concreti e significativi. Quindi io sono molto soddisfatto di questo momento istituzionale che sta vivendo la città di Napoli. Non siamo entrati nello specifico per quanto riguarda Scampia, su quello ci saranno degli aspetti che tratterò io nei prossimi giorni e farò il punto della situazione. Di Bagnoli non ne abbiamo parlato perché siamo in attesa del commissario che non c'è. Quando ci sarà l'ufficializzazione commenterò la nomina di Anastasi, se sarà Anastasi, se sarà il commissario, nella vita, se mai dire mai, potrebbe anche ravvedersi il Presidente del Consiglio in zona Cesarini e comprendere che sta facendo un errore clamoroso.